Per il momento sono 17 i comuni della zona rossa, non ci sono altre individuazioni, ma non in tutti i 17 comuni sono state trovate le 20 carcasse. I comuni in zona rossa è la distribuzione di un areale di distanza dal punto principale di ritrovo di carcasse fino a una certa distanza dove presumibilmente si possono spostare i cinchiali. Abbiamo aumentato il numero di campionamenti che si fanno abitualmente negli allevamenti suini per verificare e tenere sotto controllo l'eventuale diffusione della malattia. Domani mattina abbiamo una specifica riunione dell'unità di crisi locale per ulteriori aggiornamenti, per verificare meglio la georeferenzazione e ulteriori provvedimenti da adottare. Già adesso però nei 17 comuni c'è un'ordinanza che prevede il divieto di attraversamento, il divieto di raccolta di asparagi, funghi. Che cosa dovrà accadere per arrivare alla revoca? Per adesso siamo nella fase in cui ci aspettiamo la delimitazione più precisa dell'estensione dell'area interessata. Se verifichiamo che quest'area interessata non presenta nuovi casi, non presenta altre situazioni, sicuramente arretreremo anche rispetto alla deroga. Però per adesso diciamo che più che un'attesa di un riempio immediato stiamo attenti che non ci sia un allargamento.